Buongiorno e buona Pasqua! I primi nove versetti del capitolo ventesimo di Giovanni accompagnano il clima di festa che da questa giornata si sprigiona, raggiungendo il cuore di ciascuno qualsiasi sia la condizione in cui stiamo vivendo. Infatti, anche se per qualcuno potrebbe essere che la vita stia offrendo un momento particolarmente doloroso o difficile, pensiamo ad una morte, ad una malattia o ad una notizia brutta ed inaspettata. Il giorno di Pasqua risuona per le strade delle nostre città e campagne con l'annuncio delle campane a distesa che ci dicono che il Signore della vita e della gioia ha l'ultima parola su tutto, anche sulla morte. E così, proprio per via, incontriamo la Maddalena, che si sta affrettando quando ancora il buio dei dubbi e della tristezza attanaglia il nostro cuore, verso il luogo in cui è stato deposto il corpo esanime del Signore. La tomba è l'emblema di quella attitudine che abbiamo normalmente tutti quando smettiamo di sperare di fronte alle difficoltà della vita. Il sepolcro chiuso è il simbolo della fine della speranza, ma inaspettatamente la discepola di Gesù lo trova aperto. Questo perché è impossibile per l'uomo tacitare la domanda di senso che porta nel cuore. Perché, Signore, mi è accaduta questa cosa? Perché mi chiedi di passare attraverso questa difficoltà? Che cosa ancora debbo sopportare prima che la vita mi sorrida? Per quanto dolorosa possa essere l'esistenza, il sepolcro non sarà mai realmente chiuso, perché noi non smetteremo di sperare che accada l'imprevisto. Cioè che Dio venga e ci dia la sua consolazione. Il ritrovamento del sepolcro aperto e vuoto, però, mette in moto tutta una serie di questioni che si concludono, nell'episodio che stiamo considerando, con l'arrivo di Pietro e Giovanni, che come due bravi poliziotti sono stati chiamati ad indagare sulla sparizione del corpo. I due apostoli, insieme alla Maddalena, rappresentano la totalità della Chiesa. La donna incarna non solo l'elemento femminile, ma anche la forza dell'amore che spinge la fede ad arrivare là dove gli altri invece da soli non giungerebbero mai. Pietro, un po' goffo nella sua corsa lenta e affannata, rappresenta la solidità della dottrina, che però riesce ad arrivare sana e salva fino alla verità di Dio soltanto grazie all'apporto di Giovanni, simbolo della forza dello spirito e dei carismi personali che rendono più bella, affascinante e meno noiosa, secondo un'intuizione di Papa Francesco, la vita e la Chiesa stessa. Ebbene, la donna avvisa i discepoli ed essi corrono al sepolcro, ma una volta giunti Giovanni, che unico fra gli apostoli aveva partecipato ai riti di sepoltura di Gesù, si rende conto che il corpo non può essere stato trafugato. Si è piuttosto come smaterializzato dall'interno. Le vende che avvolgevano le membra di Cristo non sono state tagliate, si sono sgonfiate. Nessun essere umano avrebbe mai potuto realizzare una cosa del genere e in così poco tempo. Da notare, infine, che in nessuno dei Vangeli viene descritto l'istante esatto e le modalità con le quali il corpo di Gesù è risorto. Questo a riprova del fatto che essi non sono un romanzo inventato, ma sono piuttosto il resoconto di ciò che i discepoli hanno vissuto in prima persona, senza aggiungere alcun dettaglio per quanto potesse, e potrebbe ancora oggi, stuzzicare la nostra curiosità. Chiediamo al Signore di scoperchiare tutti i nostri sepolcri. Mettiamoci anche noi a correre con i discepoli. Soprattutto accettiamo l'annuncio che Egli è venuto per fare nuove tutte le cose, perché la vera speranza non è soltanto l'ultima a morire, ma è sempre pronta a risorgere. Augurandoti di nuovo buona Pasqua, ti invito a mettere un like a questo video e a lasciare il tuo commento personale. Raccontami cosa vuol dire per te fare Pasqua. Nel frattempo ti saluto, a presto! Ciao!